Come le foglie Dal vento spazzate via Così noi veniamo trabossi dal padre Non sono vera padrona della vita mia Essa può trovermi quel che mi ero matato Se vi traguardi raggiungete le soglie Ricordate sempre Siamo come le foglie Grazie Signorina, abbiamo caricato quasi tutti i bagagli sulla vettura Bene Ah, Gaspare Mi dica Il mio padre è sempre lì con te? Sì, signorina È da stamattina all'alba che non riesce a star film Ha voluto a tutti i costi occuparsi in prima persona dei traslochi Gli avevo detto di non affaticarsi, non ce n'era bisogno Avrei pensato io a tutto E poi, dopo più tardi, sarebbero giunti anche i facchini Ma niente, non ha voluto sentire ragioni Lo so, mi sono accorta di questa sua frenesia Stamani alle cinque era già a sveglio Pronto, vestito, lavato e con la valigia chiusa Si aggirava come un fantasma per la casa Avanti e indietro Sopra e sotto Chissava ripetutamente l'orologio Se avesse voluto spostare in avanti queste dannate lancette Con la sola forza del suo sguardo Così, tanto per anticipare L'inevitabile Questa sua iperattività lo aiuta a cenare un po' del suo immenso dolore Lasciamolo fare Si, lo capisco E penso lei abbia perfettamente ragione Stamattina, quando ho principiato il lavoro di trasloco Mi ha appoggiato una mano sulla spalla E mi ha detto Lascia che ti aiuti Mi divertirò Sembrava indifeso come un bambino Aveva gli occhi umili e un sorriso forzato Triste È una brutta giornata per noi tutti, caro Gaspar Una giornata da dimenticare Di cui fa il tesoro al tempo stesso La fine del libro È l'inizio di niente Con permesso Io riscendo Il signore è da solo Io devo continuare con i preparativi Non rimane molto tempo ormai Vai pure, Gaspar Ma insomma Ma che ti ha fatto, Gaspar? Lo sto aspettando almeno la mezz'ora Ma cosa pretendi da quel pover'uomo? Sta facendo su e giù per terminare il trasloco Ah sì? E a me non ha aiutato E è venuto a portarmi il caffè in stanza E soprattutto non ha aiutato a vestirmi Beh, alla fine, come vedo Ci stai riuscendo da solo Più o meno Dio mio, come sei maldestro, fratellone Non capisco cosa tu possa trovare Di così divertente In questa squallida situazione Ed è soltanto l'inizio No, senti, brontolone Almeno hai finito di preparare la tua valigia? Sì, saggia, sorellina È quanto faticato per chiuderla Sembrava che non volesse serrare Quella sua boccaccia Da dire il vero Sembra che oggi tutti gli oggetti Ce l'abbiano con me Tagliano anche la gravata Lascia fare a me Tommy Devi crescere Torino avanti Dovremmo imparare a cavarcela da soli Queste tue paroline da maestrina Mi sembrano di scorgere Una sorta di compiacimento Ma non è che la bislacca situazione In cui andiamo incontro Ti diverte? No, Tommy Ma neanche mi uccide il dolore Insomma, farà bene a noi tutti Maturare un po' Vivere nella bambagia A rendere irresponsabili Immaturi e viziati E tu ne sai qualcosa Vero, fratellone? E dai Lo scherzare sempre, sorellina Non devi apparire sempre così imperturbabile Tanto lo sappiamo Tu sei forte Una roccia La vera colomba della famiglia Per questo non hai nulla di dimostrare Tanto meno a me che ti conosco come le mie Che bugate da rinomato spendacione Capocciona Lascia di andare un po' anche tu Sei umano Tutto ciò Non può Non turbarti Non è la vera Ammetto che sono triste È ovvio Stamani Quando mi sono chiusa alle spalle La porta della mia stanza È stato doloroso Lì dentro ho lasciato una fetta importante Della mia vita La mia infanzia La mia adolescenza È parte della mia gioventù E quanti dolci ricordi Legati al tempo in cui nostra madre Era ancora viva Ricordo quando entrava nella mia stanzetta di notte Per assicurarsi che io dormissi per rimboccarmi in coperta Già Nostra madre Io credo che questa casa abbia cominciato a spegnersi proprio con la sua volta Poi da quando è arrivata quella Oddio A proposito di quella Non ho verificato a che punto si trovi Giulia con i suoi preparativi Devo assolutamente andare a controllare Non, 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 ti prego per favore questo risparmio Tu fai un po' ciò che vuoi Però aspetta prima che io mi dia sia rinchiuso nella mia stanza Quella Me non la vedo Meglio sto Soprattutto oggi Su questo punto proprio non posso darvi torto Pfff, pfff, pfff Sorrentina Non lo sai che non mi dispiacerebbe lasciarla chiusa qui dentro La potremmo lasciare come sorpresa di benvenuto per i futuri abitatori della casa Che dici? Ti piace l'idea? Tunghi Sei teranello? Va bene Non ti piace, non ti piace Peccato perché ero originale invece Giulia Mi senti? Sì, nonna Dindi Ma fai presto però perché sono molto affacendata Eccomi caro, cosa c'è? Volevo verificare che non fossi troppo indietro con i preparativi per la partenza La tua valigia è pronta? Fra un po' Gasperi verrà a prenderla Non possiamo farlo aspettare, è quasi ora Non preoccuparti Su quel fronte è tutto a posto Eccolo qui Il mio bagaglio Eh, vicina mia, fossero questi i problemi della vita A cos'altro allusi? Cosa ti è successo di così sgradevole? La cosa peggiore è che può accadere a una donna di classe come me Non riesco a trovare i denari in giro per la casa E tra un po' saranno qui gli ottimi creditori Accidenti Quegli avvoltoi riescono sempre a sapere tutto per tempo E la nostra partenza è giunta subito alle loro orecchie Sempre debiti, Giulia? Con questo scioppio di denaro Le nostre condizioni economiche non minereranno neanche in Svizzera Oh, ma piccola cara Ho speso solo l'indispensabile per una signora del mio largo Qualche abito elegante E guanti, profumi, provviste industriali di colori Ecco, ora vorresti riproverarmi di aver comprato delle tempere Tu sai quanto io ami la pittura Vuoi privarmi anche di questa nobile passione? Ebbene, piccina mia Saremo in crisi economica Ma siamo pur sempre dei signori E non dobbiamo certo imbarbarirci Inoltre, sono venuta a sapere che a Ginevra Ha sede un rinnovatissimo circolo Dove l'arte è di casa, capisci Nennar? Un circolo esclusivo Dove l'arte è di casa potrebbe essere la mia grande occasione Potrei finalmente riuscire ad esporre al pubblico qualche mia tela E va bene, va bene Ma adesso torniamo al discorso di prima I soldi volatilizzati E adesso come pensi di pagare tutti questi debiti entro stamani? Di certo, non vorrei chiedere a tuo padre È troppo depresso, nervoso Ne sortirebbe una lite furibonda per una tal sciocchezza Piuttosto, tuo fratello dov'è? In camera sua, sta finendo di prepararsi Benissimo Tommy? Tommy? Tommy, mi hai sentito? Sono piacente, ma il signorino non è in casa Tommy, smettila di fare lo sciocco e vieni subito qui in salone Adessi che viene da segnarsi conviene Tu guarda, par proprio che il signorino si è rincasato ora Carissima Giulia, dimmi tutto Mi servono dei denari Ai boh, che novità Devo pagare dei creditori, di proposeranno qui sotto E so che tu hai il dire che mi occorrono No, ma che tu sia ben informata circa lo stato delle mie finanze Non ho alcun dubbio Sai, in quanto a queste cose hai un... Chiudo particolare Pando le ciance Tommy, mi dai questo denaro? Potremmo chiederlo a tuo padre? No, papà no Non ha già abbastanza rospi da mandare giù Tommy, ti prego Saniamo almeno questa questione di noi senza che lui ne sappia nulla E va bene, va bene, tieni Prendi questi dannati soldi Sono ben mille lire Vai, vai, c'è l'acqua felice adesso Eccoli là sotto E all'appello non ne manca nemmeno uno Quando si tratta di reclamare denari sono sempre puntualissimi Signora, ci sono delle persone che vorrebbero conferire con lei Non so dirle chi siamo Oh, ma gaspare, ma non ti preoccupare Sono soltanto delle care conoscenze della nostra signora, Giulia Se lo dite voi, io ho riconosciuto solo il sarto Allora li devo farsi a dire No, grazie, gaspare Vado io Congederò velocemente questi miei cari amici Come preferisce? Tanto è una questione di pochissimi minuti Signorini, posso cominciare a portarvi a una sedia? Sì, gaspare Ora sarà contenta Si è salvata appena in tempo Sul filo del rasoglio di lei Ma... E lì mi nennella Ma la nostra mamma ha finito di preparare i suoi bagagli da gran signora Sì E come avrà già potuto intuire Oltre ai vecchi debiti che adesso è andata a saldare Questa mattina Giulia ha trovato anche il tempo per dissipare qualche altro quattrino qui in città In poche ore ha saputo moltiplicare ulteriormente i nostri debiti Naturalmente ha fatto una bella provvista di tempere, tele, pennelli Già immagina gli splendidi paesaggi che dipingerà Ginevra Ma non siamo al posto e non avremo più problemi di povertà Pensa con tutti i soldi che entreranno in casa grazie alla vendita dei suoi capolamori Scherzo a parte Tommy Io ho intenzione di iniziare a dare ripetizioni d'inglese non appena ci saremo sistemati in Svizzera E tu che farai? Io? E che potrei mai fare io? E fai pensare Ho trovato che potrei dare lezioni di tennis In fondo se ben ricordi per la Ginevra fu il palcoscenico delle mie protezze tennistiche Lì, due anni fa, vinsi la gara internazionale del tennis Eh, erano altri tempi E che cosa è cambiato? Che non siamo più ricchi? Questo non toglie nulla le mie abilità sportive Gaspare Le racchette che siano ben visibili Che la gente si renda conto che siamo dei signori nonostante la povertà Sarà fatto, non si preoccupi Posso portare via anche un'altra sedia? Sì, Gaspare, sì Certe volte, Tommy, mi sembri davvero un bambino Ma ti pare il momento di pensare a frivoletti come le racchette da tennis ben in vista? Ma non ti sembrano delle vere stoltezze? Guarda il nostro padre piuttosto Hai visto il suo volto rigato per la tristezza? Contratto dal dolore? Lui sì che ha ben compreso che cosa ci sta accadendo Ma nennè, 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 nennè E tu non puoi paragonare noi e il nostro padre Il nostro padre è un uomo che ha lavorato per 40 anni dalla mattina alla sera Dalla sera alla mattina E beh, siamo diversi Noi non viviamo di cose pratiche, reali, concrete Ma siamo contemplatori delle cose belle, delicate, affini E non siamo certo fautori dalle realtà come lui Nennè Ah, belle idee che hai in testa Dunque è questa la stima che hai di nostro padre Però i benefici di cui hai potuto godere grazie alle fatiche di questo instancabile lavoratore Ti sono sempre piaciuti, mi pare Quando parli così mi convinco sempre di più che questa nostra nuova vita sarà un bene per noi Ci insegnerà molte cose, soprattutto a te, testone A proposito, di signori e signorini Ma guarda il nostro buon Gaspari come si è messo tutto in ginghe di questa mattina Non è che si sente un po' signore anche lui? Tommy, sei tremendo Comunque E' vero, hai ragione E' così buffo con quegli abiti E la tua pagina è fatta persona Ti avrei sentire lì e che la pensi così anche tu, eh? Silenzio, Tommy Ah, siete tutti due qui, piccoli Bene, bene E' tutto pronto Ormai non ci resta che attendere l'arrivo di vostro cugino Massimo E poi potremo partire tutti assieme Soltanto Massimo ci mancava a comprendare questo quadro edificante La cugina sulla torta Non mi fa scontare mezzo per pezzo oggi, basta Ma se sei sciocco e non capisci quando è il momento di tacere, non è colpa mia Lo sai che il nostro padre è molto affezionato Massimo E dovreste imparare a stimarlo anche voi Di tutti i parenti è stato il primo ed unico a tenderci una mano in questo momento disperato Non era obbligato, eppure l'ha fatto Mi ha voluto il suo pianto come socio in affari A Ginevra io e lui lavoreremo spalla spalla Vivrà con noi Così ti aiuterà anche a pagare l'affitto della casa Insomma, un po' di gratitudine, santo cielo Ma mi sei chiesto il perché Di tanta generosa disponibilità Che cosa vorrà mai in cambio Massimo? Forse La mano di Nennelle, non credi? Ah, se è quello che vuole Per me può scordarselo Comunque smettiamola con questi discorsi Tommy Papà è stanco Sì, 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 hai ragione Tanto non ne vale la pena Eh no, figlio mio Con te devo ancora affrontare un argomento Ho visto Giulia scendere al portone a pagare gli emesimi debiti Si trattava di una cifra alta Ed io non gliela avevo data Ciò vuol dire che quel denaro proveniva da te Buona nulla Non sei stata capace neanche di pagare i creditori con discrezione E meno male che non dovevamo dare altri pensieri E il nostro padre Non è questo il punto Almeno l'onore Adesso mi interessa sapere dove hai trovato una tale quantità di denaro Erano mille lire Tommy Tu sei uno zioso e gli occhio di come te Riescono a guadagnare tanto denaro solo in una maniera Come il gioco E va bene E' andata così, vero? Sì, è andata così E allora? Dio mio, che disgusto Tommy Mentre io mi dibattevo del terrore e del pallimento Tu passavi le nocchie nelle pische Le pische Ma usi dei termini esagerati, fuori misura Ma di piuttosto al club E su, papà Ho avuto una serata fortunata a gioco L'altro mese ho vinto 6.000 lire in una notte soltanto Come, come? 6.000 lire? E a me le dichiarate soltanto 2.000 Ma certo, mammina cara Te ne ho dichiarate 2.000 E me ne chieste 1.000 Se te ne avessi dichiarate 6.000 Me ne avresti chieste almeno 3.000 Sei solo un dispettoso e impertinente E io che ho voluto bene Anzi che voglio bene Sì a te che a me le nene Come se foste davvero figli miei Ma mi hanno dato anche l'opportunità Di fare la parte della riuscima Sei patetta Basta, basta con queste Prendote scarmaglie Mi prego Desidero solo un po' di pace E chiedere troppo un po' di pace Che io ci aiuti a rincollare i frammenti Di questa famiglia allo spasso Mi hai permesso? Buongiorno Oh, caro Massimo Ti aspettavamo Forse Mi hai portato in un momento di intimità familiare Posso anche ripassare tra un po' E lasciarvi finire di parlare Capisco perfettamente Che questi sono momenti delicati E parlare con i propri cari Può essere un dolce rendimento Non devi assolutamente preoccuparti Massimo E poi anche tu sei della famiglia Non ti cerco di strano Piuttosto dimmi Come è andato il diritto d'affari a Budapest? Ottimamente Sono tornato stamattina Alle sette E ora Sono pronto di intraprendere Questa nostra nuova avventura assieme Bene Alla fine avete deciso di partire tutti insieme per Ginevra E di non lasciare statriare da solo il buon Giovanni E con i suoi cari dietro Per lui sarà tutta un'altra cosa questo viaggio Dico bene, Sio? Sì, sì Certamente Dopo Signori, scusatevi Posso montare via la terza sedia? Sì, daspate Grazie È silenzio? Sì, è silenzio qui dentro Siamo ben cinque persone In uno spazio non eccessivamente grande E non si sente volare una mosca Sembra quasi Che voi tratteniate persino il respiro Dunque, a principio parlare un po' io Magari a Irene Nenel, prego Non sono aperto a sentirmi chiamare con il mio non ufficiale D'accordo, d'accordo Perdonami Allora Nenel Lasciare Milano non mi pesa molto Ma Alla fine Non vedo l'ora di partire e farla finita con queste penose attese Comunque E di sicuro non mi ucciderò per questo Capisco E invece a te Tommaso No Quale Tommaso, per carità Quello che ti ha detto mia sorella Vale anche per me Chiamami Tommy E va bene, va bene Perdonami anche tu E' incredibile Ho parlato così poco E pare che io abbia fatto due gaffi imperdonabili Non devi assolutamente preoccuparti Massimo E' che i ragazzi sono abituati a queste rivole e sciccherie Bezzio Adesso cercherò di riguadagnare terreno Riformulerò la domanda di prima Dunque Tommi Ti spiace lasciare l'Italia? Sai In fondo L'importante è che ovunque si vada a vivere Ci si possa sentire padroni In casa propria Qui per ovvi motivi ormai eravamo solo signori Ma ben poco padroni Mi auguro solo Che a Ginevra Non ci si debba sentire ancora più ospiti Di quanto ormai non fossimo qui A causa dei Debiti a filante Dai tuoi toni percepisco una certa diffidenza Nei miei confronti, Tommy E neanche dal breve scambio di parole che ho avuto con tua sorella Ho avvertito differente accoglienza Beh, d'altronde è comprensibile, no? Ma tre Siamo cugini Ma ci siamo visti così poco in vita nostra Vedrete Che frequentandoci Impareremo A conoscerci A comprenderci Insomma Anche da apprezzarci reciprocamente Comunque Credo che sia Proprio giunto il momento di avviarci Di sotto è tutto pronto E poi Non c'è più motivo di trattenerci qui È vero Non c'è più motivo di trattenerci con Scusatemi Posso portare via Il tavolo? Sì, sì, sì Era esattamente quello che stavamo portando Sì, Gaspare Sì, sì, sì Centomila volte sì Facciamo così, guarda D'aiuto di io Così la smettiamo con questa ricola processione Dimmi, Gaspare Forse vuoi portare via qualcos'altro Ah, ho capito Vuoi scrostare l'intonaco delle pareti Dimmi, che altro vuoi fare, Gaspare Dimmi, dimmi Io cercavo soltanto di fare con Garbo il mio dovere Sì, Gaspare Questo è da fare Si parla Portiamo il tavolo di Sì Avanti, marsci Allora Allora Allora, iniziamo a scendere Caro Massimo Hai visto il vento che tira oggi? Sì È davvero impetuoso Ha riempito di foglie ogni angolo della casa e del cortile Chi verrà ad abitare qui dopo di noi Dovrà impiegare almeno un'intera mattinata Per riuscire a spaziarle via tutte quante Massimo Ti chiedo scusa per il comportamento sgradevole dei ragazzi Perdonati Sono sciocchi e viziati Nonostante le avessi pregati di mostrarsi gentili Hanno subito iniziato con il piede sbagliato il loro nuovo rapporto con te Grazie Non preoccuparti Sono ragazzate Vedrai che con il tempo andremo d'amore e d'accordo Mi consoli E di questo ti ringrazio Ma io so che la questione è ben più complessa Dunque In pochi minuti hai visto la mia bislacca famiglia al gran completo Un bel ritratto di famiglia, non trovi? Una moglie frivola Un figlio ozioso In qualche modo L'unica saggia L'unica con un briciolo da vedutezza Sarebbe Nennè Ma non può sostenere sulle sue spalle Inconsistenza L'instabilità di un'intera famiglia Alla lunga è difficile che riesca ad oporsi alle loro snobistiche frivolezze È molto più facile che venga travolta anche lei Dalla superficialità che la circonda Cosa che infatti accade il più delle volte Su questo punto io non sono d'accordo zio E forse sottovaluti la forza di Nennè Io vedo lei in una grande solidità Certo, deve maturare un altro po' E affrancarsi dalla forte influenza che Tommy esercita su di lei Certo, con questo non voglio dire che Tommaso sia un cattivo ragazzo Solo che lo vedo molto più fragile di Nennè Lei Temo che adattarsi alla nuova vita Sarà molto più complicato per lui piuttosto che per il bene L'amara verità è che ho fallito Mio caro nipote Ho fallito come padre Prima ancora che come uomo d'affari Non ho mai saputo esercitare l'autorità di un buon padre Sono stato solo una bestia da soma Un buo da lavoro E nulla più Dopotutto non ho mai sentito la necessità di imparare ad essere severo Eravamo ricchi E la ricchezza abbellisce tutte le cose Fa sottovalutare le strutture Nasconde le oscurità Così non mi sono reso conto di quanto fragile fosse l'equilibrio della mia famiglia Solo ora mi rendo conto di quanto i miei cari somiglino a queste foglie Al primo soffio di vento verranno spazzati via anche loro E la realtà è che siamo già in piena bufera Coraggio zio Vedrai che questa nuova vita mi sorriderà Coraggio Coraggio E ora andiamo Si staranno chiedendo che fine abbiamo fatto E Tommy starà già malignando che dopo aver fatto uscire tutti loro Noi due ci siamo caricati qui dentro per non partire Hai ragione Sarebbe proprio nel suo stile Oh signori Eccovi qui Dal momento che tardavate ero venuto proprio ad accertarmi che non aveste ancora bisogno di niente Di te caro Gaspari avremo sempre bisogno Lo sei bene anche tu Sei la persona più fedele e discreta che io conosca Grazie signore Lei Salve è tanto bene che io sarò sempre il vostro penico Non potrei mai separare il mio destino dal vostro Ormai è una vita che condividiamo le nostre giornate Tra pochi giorni vi raggiungerò il genitore Giusto il tempo di consegnare le chiavi e non riscrivere Ora darò una frazzata qui in casa e nel cortile Tutte queste foglie non rendono presentabili l'abitazione Ottima idea Ti aspetterò con trepidazioni in Svizzera Non vorreste lasciarmi aspettare a lungo eh Certo che no signore Tutto sarà fatto come precedentemente concordato E di te invirabilissimi verrà Ora stia sereno e affronti in piena tranquillità il suo viaggio Ti ringrazio Gaspare Ancora una volta ti ringrazio di cuore A presto allora Direi a prestissimo miei signori Fate buon viaggio Arrivederci Gaspare Arrivederci Ancora una volta ti ringrazio di cuore Grazie a tutti 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 volontà con me nel due giorni fa. E sai che cosa ho scoperto? Che io sono uno di quegli esseri totalmente privi di volontà. Per una persona come me l'unica sorte possibile è quella di toccare il fondo. Adesso l'ho toccato. Posso ritenermi soddisfatto, non credete? Sai, anche in futuro agirò nello stesso modo. Lascerò che sia il vento a decidere se farmi precipitare un burrone ancora più profondo o meno. Adesso lasciatemi andare, santo cielo, io non lo volete capire quanto è ancora più straziante per me stare davanti a voi in queste condizioni così penose. No, Tommy, non mi lasciare, non mi lasciare. Addio, Nemnello. Addio, Massimo. abbiate cura di voi e perdonatemi se potete. Tommy! Tommy! Lasciami, Massimo! Non posso lasciare abbondarvi il mio fratello, non posso! Sto perdendo un altro pezzo della mia famiglia. Dopo nostra madre, anche lui. Non posso permetterlo e non me lo permetterò. Ma fermati, Nemnello. Fermati. Inseguirlo adesso non servirebbe a nulla. È tardi. È già troppo tardi, perché mi capisci? Si è perso. Il vento l'ho trascinato via. Forse un giorno questo stesso vento, che adesso lo porta così lontano da te, saprà indicargli una strada per tornare al calore della sua casa. E io glielo auguro di cuore, questo lo sai. Ma adesso è chiaro che ha bisogno di perdersi. È un uomo che deve fare conti con i suoi errori passati e presenti, purtroppo. Riesci a comprendermi? Sì, Massimo. Sì. Ne soffro terribilmente, ma comprendo tutto. Ora, cosa rimane di noi? La tanto stimata famiglia Rosani, cos'è questa, eh? Una matrimia frivola. Un padre stanco e frustrato. Una figlia incapace che ha fallito nel suo compito più importante. Quello di tenere vita la sua famiglia. No, Bernardo. Questo non ti consento di dirlo. Tu non sei stata affatto incapace. Hai fatto tutto ciò che era umanamente possibile fare per riuscire nel tuo tempo. L'impresa sarebbe stata impossibile per chiunque. Poi, io non credo che sia andato tutto perduto. Non pensi... che potresti continuare il tuo progetto di ricostruzione anche adesso. Intendo, anche senza Tommy? Sì, tuo padre ha perso un figlio, questo è vero. Ma potrebbe sempre acquisirne uno nuovo, no? Massimo, non so se voglio seguirti in questo discorso. Temo stia prendendo una certa piega e ne ho paura. Hai paura di me? Hai paura che io possa farti del male in qualche modo? Al contrario, ho paura di poterti ferire io. Insomma, Irene. Che sciocco che sono. Proprio nei momenti più importanti sbaglio a nominarti. Ma no, Massimo, non preoccuparti. Irene è il mio nome. Direi che ormai sono grande a sufficienza per smetterla con il deseggiativo di NNL. Va bene. Allora, Irene, quello che voglio dirti è che io... ecco, io... sì, insomma... Io ti amo. E ti amo talmente tanto che ti sposerei stasera stessa. Vuoi diventare mia moglie? Ti prego, rispondimi con franchezza. Massimo, io non posso sposarti. Mi dispiace, ma non posso proprio. No, non posso proprio. perché non ricambi il mio sentimento, vero. E allora perdonami. Avevo avuto l'impressione che in questi mesi il nostro rapporto fosse mutato. Che anche tu provassi per me lo stesso tipo d'affetto che io ho da sempre nutrito nei tuoi confronti. Evidentemente mi ero soltanto illuso. Non ti eri illuso sui miei sentimenti? Ma forse... in fondo sarai confuso sui tuoi. Cosa dici, Irene? Io confuso? Confuso sui miei sentimenti per te? Io non posso accettare la tua proposta di matrimonio perché non saprei mai se mi hai sposato per amore o solo per affetto. Le due cose sono ben diverse. E cosa intendi dire? Ebbene, Massimo, durante questi mesi sei diventato anche il mio confidente. Sei tutto di me, delle mie preoccupazioni, delle difficoltà della mia famiglia. Ebbene, allora? Allora? Allora io vivrei per sempre col dubbio che tu abbia potuto sposarmi per pietà, per compassione, per cercare di aiutarmi per ricostruire questa famiglia. Anzi... Sei un giovane estremamente buono e so che saresti capace di gesti simili, ma io non posso permettertelo. Ah, Irene, non dire sciocchezze, ti prego. Io ti chiedo di sposarmi per amore, soltanto per amore. E poi non potrei mai trovare compassione per una donna come te. E te hai sempre stimato la forza di carattere, la tenacia, la solidità morale. È vero, Nennel. È tutto vero. Sono parole che Massimo ha esaltato con convinzione ogni qualvolta mi parlava di te. Con sguardo innamorato. Perciò non nutrire sciocchi dubbi. Abbraccialo, sposalo e sorridi alla vita. Papà! Cione, giungi proprio al momento giusto. Grazie del tempismo. Allora, Irene, cosa ci rispondi? Beh, direi che non ho scelta. Siete due contro uno. Sarà ben utile opporsi. Rispondo che vi sposi. Ci sposi? Sì, hai capito bene, gelosone. Mi sposo. Tutti e due. Viva la pigamia, allora. Poi c'è l'altro uomo, sei tu, Giovanni. Io sono ben lieto di condividere con te la mia amata. Non sapete la gioia che mi state donando, biglioni miei. Tutto può ricominciare da oggi, da questo momento, dalla vostra unione. E sarà così. D'ora in avanti tu sarai il solito tronco su cui noi potremo sempre fare raffinamento. E noi saremo le tue foglie, verdi e robuste, capaci di resistere a qualsiasi intemperio. Sarà così dora in avanti, te lo giuro. Signori, la potenza è pronta. Servo in tavola? Ma certo, Gaspare. Mmm, che profumino. Saponi della nostra Italia, eh ragazzi? Tutti a tavola, tutti a tavola. Giulia? Giulia? Vieni anche tu a cenare con noi. Su, nessuno ce l'ha più con te. E poi, dopo la mia ramandina di oggi, sono convinto che anche tu cambierai condotta, è vero? Non puoi starne certo, Giovanni. E intanto per cominciare è... Non è? Non è? Non è? Vorrei prenderti le piame. Ma non sei obbligata, Giulia. Lo so, non mi sento in altro modo obbligata. Ciò che è la cosa giusta e poi mi parla. Ho commesso tante assurdezze. Troppe assurdezze. E di questo chiedo scusa a voi tutti. Ma vedrai, Giovanni, che d'ora in avanti le cose cambieranno. Ve lo prometto. E noi ti crediamo. Grazie, piccola. Ora però basta parlare. Festeggiamo insieme a tavola questa nostra ritrovata serenità. E voi, gentilissimi spettatori, avete compreso la lezione? Sì, sono certo di sì. È vero. La vita alle volte sa toglierci molto. Ma è anche capace di dispensarci doni inaspettati e meravigliosi. La gioia di questi istanti mi ricompensa di mille affanni che ho vissuto finora e degli altri mille che potrei anche dover vivere in avvenire. Consentitemi un umile consiglio. Impariamo a godere pienamente dei momenti lieti di oggi. Perché solo così troveremo la forza per affrontare le difficoltà del domani. Allora, papà, ci raggiungi o no? Ma certo, miei cari. Arrivo. Arrivo. Ah, da fare. Sì, signore. Chiedi allora, signori, se vogliono favorire. Questa sera siete tutti i miei ospiti. Spero solo che la polenta vi piaccia. Altrimenti, prendetevela con Gaspare. Grazie. 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 Allora, passiamo alla scenografo, come è alla regista e poi passiamo agli attori. Com'è nata l'idea di presentare questa commedia? Scriviamo della Genesi, partiamo quindi dal testo, un po' dal fatto che l'avevo visto e rappresentato in DVD della Trinelli, Racco e Trinelli, chiaramente con noi illustri come Paolo Ciavari, Iliana Pione, grandi compagnie, grandi attori di altri tempi. Chiaramente il testo era ben più lungo, ben più classico, era un dramma di quattro atti, quindi è stato qui trasposto in commedia, quindi in una forma un po' più sbarazzina, facendo riferimenti ai giochi e ai lazzi della commedia dell'arte, soprattutto il personaggio di Gaspare, interpretato da Federico, è proprio il classico Zanni, il servitore furbo, l'intrattenitore futuro quasi giulare. Questo gioco quindi, oltre a dare un alleggerimento alla struttura, lo rendeva sicuramente fruibile ad un pubblico più eterogeneo. Inoltre, il fatto di averlo ridotto, abbreviava di molto le lunghezze di un dramma di ben quattro atti in cui il pubblico di oggi, purtroppo, in molti casi non abituato, non più abituato. Da qui, da questa folgorazione nei confronti del testo originale, è nato l'adattamento che io ho curato. E ovviamente, da lì in poi, anche l'idea che si strutturava su questo alleggerimento e giocosità al contempo, è nata poi l'idea registrica. Le parole invece anche alla scenografia? Diciamo che la scenografia è un po' simbolica, simbolista, ecco. Naturalmente non c'è nulla di tanto complicato, togliendo il telo e quindi il corridoio che ho costruito. Il siparetto di Gaspare, nel suo intimo mondo, e poi tutto il resto della scenografia, comunque, tra sedie, tavoline e quant'altro, è tutto portato in maniera molto casuale, ecco. E anche alla finestra, in modo particolare, comunque, appunto, in maniera simbolica. Infatti lo vediamo come se fosse solo esclusivamente una cornice vuota, il primo atto, il secondo atto, invece, un po' più, ecco, piena di fiori. Ecco, adesso passiamo alla parola agli attori, che hanno sempre dato vari personaggi. Allora, lui, marito, diciamo, il fattore principale della... Il patriarca. Il patriarca della commedia. Lei, la moglie, la seconda moglie, molto avvezzo alla vita comoda, bella, lussosa. Come vi siete trovati in questi personaggi? Inizio io? Sì. Ma, diciamo che recitare richiede proprio questo sforzo, riuscire a comprendere un personaggio e a crederci al punto da sentirlo dentro di sé. E la difficoltà, ecco, non è indifferente se si considera che se non si fa questo lavoro come attività principale è un impegno con cui si condivide la giornata insieme a tanti altri pensieri, tante altre occupazioni. Quindi riuscire ad abbandonare la vita quotidiana per comprendere il mondo del personaggio che si interpreta è uno sforzo che richiede una ginnastica interiore psicologica non indifferente. Però, appunto, se uno prende sul serio questo impegno, trova dei collaboratori altrettanto seri che, appunto, riescono a creare questa atmosfera, diventa più semplice e più naturale compenetrarsi in una situazione e nella circostanza che vive il personaggio con i suoi sentimenti, le sue difficoltà, le sue preoccupazioni, le sue gioie e tutto quello che può costituire l'humus della sua natura. Io sono Giulia, praticamente nella realtà del teatro, sua moglie. Giulia è un personaggio un po' frivolo, poi in fondo è una donna che è vissuta nel benessere, ha sempre trovato, ha sempre avuto, diciamo, una vita facile. A un certo punto, per una serie di condizioni avverse, la famiglia si trova a vivere questo dramma del debito per cui a un certo punto è costretta ad andare via. Beh, è un grosso sacrificio cambiare la vita e quindi, insomma, passare dal benessere al lusso alla povertà, o perlomeno quasi povertà. Quindi, naturalmente, ama l'arte e quindi è disposta a qualsiasi sacrificio pur di riuscire a portare a termine i suoi lavori. Qui, in questa realtà, i lavori di Giulia sembrano un po', insomma, sembrano un po' sminuire, no? Poi alla fine, insomma, sembra che poi passi un po'... Lavori che fai... Lavori di pittura, sì, sì, lavori di pittura, insomma. E con te bianco. Sì, hanno un po', insomma, passano un po', diciamo così, hanno un sapore secondario rispetto all'economia di tutta la struttura. Però nella realtà, invece della rappresentazione di Giacosa, insomma, questo lo dico al ricordo del vero, Giulia riesce finalmente anche a vendere i suoi quadri. Quindi, però, la regista ha ritenuto opportuno muoverci con un altro dinamismo e naturalmente noi non possiamo fare altro che tenerci alle disposizioni, no? Quindi questo è fondamentale, voi siete d'accordo? È stato un grosso sacrificio, devo dire, abbiamo lavorato veramente per mesi, ognuna nelle proprie corde, ognuna con la propria disponibilità e quindi il risultato, insomma, c'è stato. Abbiamo investito molto, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché poi alla fine ci abbiamo creduto. Tutti, nessun escluso. Passiamoci al secondo ruolo femminile, che è anche principale, la figlia. La figlia che da Nenè... Nenel. Nenel accetta di farsi chiamare invece... No, allora il suo vero nome è Irene, però... Quando scopre che potrebbe avere una vera storia d'amore con, diciamo, il corteggiatore di una vita, ecco. Sì, in realtà il suo nome è Irene, però il vezzeggiativo Nenel lo tiene proprio perché... Lo tiene legata, la tiene legata alla sua infanzia. Più che alla sua infanzia, proprio alla frivolezza anche con il fratello, quindi a questo essere bambazzone. Che però non è presente, purtroppo è già andato via, ma non c'è. Non c'è. Non c'è. Siamo molto legati all'essere giocosi, all'essere, come dice il nostro padre, frivoli. E quindi a vivere in quel mondo appunto fatato che al giorno d'oggi, perché secondo me questa è un'opera che è molto odierna, è quello dei bambacioni, cioè di quelli che arrivano a una certa età, a vent'anni, che non vanno né a scuola, non vanno all'università, non lavorano, stanno a casa e si fanno dare i soldi dai genitori o dai nonni addirittura, da quello che ho sentito. E quindi ritengo sicuramente che sia un'opera molto attuale. È solo che Nennel fa questo passaggio per cui cerca di lavorare, cerca di, dal momento che capisce le difficoltà economiche, di trovarsi un lavoro e dare ripetizioni d'inglese, cosa che non fa il fratello che invece si indebita. E la vita è sempre più comoda, ecco, anche nel libro di casa farà... Però trova l'amore, trova l'amore. Sì, però un amore forse sbagliato, diciamo, vabbè, poi magari i nostri ascoltatori vedranno anche l'opera completa, per cui avranno un'idea... Beh, l'amore finale è appunto il fatto di questo sottotesto, il valore della famiglia, che ripeto, secondo me è un'opera molto attuale proprio perché questo valore della famiglia si è andato perduto negli ultimi vent'anni, venti, trent'anni. Quindi il fatto che comunque le dice, puoi ricostruire la tua famiglia anche qui tramite, insomma, una nuova unione, che è quello che dovrebbe essere. Infatti poi abbiamo un attore che eventualmente sposerà in Nenella. Non si sa perché rimaniamo che Nenella accetterà la corte di questo, diciamo, corteggiatore da anni. Io sono Massimo, nella rappresentazione sono Massimo, cugino di Nenelle e del vero Massimo, però si chiama Tommy in realtà. Niente, è stato un bel ruolo. Nella finzione scenica sono innamorato perdutamente di questa mia cugina che in realtà non ho visto poi tanto nella vita. Sono una persona che si è fatta da sé, ha lavorato e quindi in netto contrasto con il cugino che è come Giulia, il simbolo maschile della frivolezza in questa rappresentazione. E tu sei anche, diciamo, la persona che aiuterà questa famiglia a cambiare la loro situazione. La loro vita, sì. Gli aiuto a trovare un'occupazione a Ginevra, una casa, un'occupazione allo zio. E niente, alla fine riesco ad ottenere quello che ho voluto sin dall'inizio, quindi la mano della bella Nenella. E tutti li sono felici e contenti. Poi abbiamo invece, per ultimo però, anche il ruolo principale, che non può mancare, il maggiordomo, che si chiama Daspare. Che anche questa commedia è un ruolo, diciamo, quello che ti ha in cui della famiglia. Sì, esatto. Ma lui è un vero, proprio pilastro. Perché lui comunque è stato in famiglia da sempre con il signor Giovanni e quindi lui capisce che Giovanni ha sempre lavorato per mantenere questa famiglia frivola e quindi capisce che deve cercare di far di tutto per tenere alto il morale del padrone. E quindi gli prepara la polenta anche a Ginevra, anche perché sa che gli mancherà la vita che lui conduceva prima a Milano. E quindi cerca di farlo sentire comunque a casa, anche in un nuovo ambiente, nuova vita e tutto quanto. Bene, allora, ringrazio la compagnia Vox Anime. Vox Anime. E... Grazie per questa commedia ci avete fatto vedere e aspetteremo poi anche alla prossima. Aspettiamo bene. Aspettiamo bene. Aspettiamo bene. Aspettiamo bene. Aspettiamo bene. Aspettiamo bene. Ora... Aspettiamo bene. Aspettiamo bene. Aspettiamo bene. O che中国 ha avuto la prima pagina. Aspettiamo bene.